te lo vuoi un caffè? io non lo voglio il caffè, lui vuoi amaro io vorrei tanto un po' di babies, tipo caffè corretto con il babies, a Residenza lo faccio sempre madonna Luke c'ho un flash ora, oh madonna mia, madonna, madonna il flash mi ricordo che quel periodo che lui si era confidato con me che mi aveva detto che gli piacevo qua, chi? io ti ho detto che tu mi piacevi, quando? ti ricordi il padre? che stavamo al bar ah sì, mi ricordo, che lui ci voleva con tua sorella che ti aveva detto mio papà? eh Luca però devi essere un po' più spigliato, sei un po' troppo riservato no no, quello è dopo, io parlo della fase prima, parla di con tuo padre che stava al bar ci provavo con tua sorella quanto sorella l'ha detto, lui gli ha detto ma è cognato come? come? genere lo sono, vado bene e lui ha detto potresti, però quanto sorella l'ho contente come no? vabbè lo parlavo di ieri anno ovviamente ovviamente di ieri anno ha parlato allora senti, veramente stavamo seduti al tavolo, sai che noi stavamo sempre la con Silvia, con Carlo e poi sta Valera e a un certo punto fa, io vado in camera anzi mi hanno detto che io vado a prendere un caffè e poi poi salgo su in camera tu dopo lo prendi il caffè? io gli ho detto ma sì dopo lo prendo ah vabbè ciao vado al bar dico eh tre caffè, uno per me, per Carlo e per Valeria e alla fine pago e mi fa guarda che il tuo caffè te l'ha già pagato quel ragazzo oh che gentiluomo senza che gli avessi detto niente, capito? mamma mia per un euro no è proprio il fatto che la gentilezza no non è la gentilezza perché lui prima se n'è andato in camera e poi ti ha pagato il caffè mi ha pagato il caffè perché sapeva che lo prendevo cioè è stato un gesto come dire guarda che ti penso, capito? sì è proprio quello è vero? ma guarda era proprio quello non hai capito niente, lui cercava di comprarti con un caffè è una cosa squallida è squallido lui voleva comprarti con un caffè tu ci sei pure cascata lì mi pensa ma guarda quanto c'è niente guarda quanto c'è niente vabbè te puoi anche non dirlo fammi se crede, scusa e lei come ci crede? basta un euro per far felice 80 centesimi e lei non cazzo l'ho pagato un euro devo tornare indietro e lei era convinta, poverina finché ci credeva non vuoi il mandarino, Luke, che non mi va? quello che a te non ti piace e quello che tu ritieni schifoso lo dai a me no, non mandava più questi sono i gesti carini delle donne guarda che rispetto che ha non mandava più, veramente, guarda che buono e perché ne perti due? prima hai detto, questi mandarini sono tutti sciapi cercavi, qua li hai toccati tutti, hai fatto così non lo so come tipo sotto magari cercavi il bollino, se era verde o rosso poi te ne sei tornata là comunque li hai toccati pure quelli là hai detto che facevano cagare a te ti piacciono però io sciapi intendo poco dolci però guarda che sono buoni guarda che ho visto il dvd di Franceschina dove l'avete messo brutti stronzi? vedi dov'è? dai che puntata è questa? la saci è una corcinella me l'avete spaccato il dvd? tanto non mi importa perché me la ricordo a memoria domanda a Mario che fine ha fatto il dvd? Mario dove me l'avete messo il dvd? che ne so io? come che ne sai se l'hai lanciato tu? quindi dvd euro sarà stata una filastrocca per bambini il 4 marzo fa 5 mesi 5 mesi? basta 5 mesi? noi e te 5 mesi il programma ho capito madonna mi tratti come una demente si come la devo trattare? noi da quanto tempo state insieme? 3 mesi? noi non abbiamo una data madonna mia che coppia schifosa cioè non avete neanche noi voi non festeggiate l'anniversario ma perché noi non stiamo insieme? che ha detto? cioè scusatemi voi non festeggiate l'anniversario quindi mi state dicendo non abbiamo una data non lo festeggiate ma ne guarda che non stiamo insieme allora io ci posso provare con te? si? ma te lo dico io ma non vedo l'ora te lo dico io allora stanotte dormiamo insieme? posso dormire con lei stanotte? ma se non dormi con me si aia cioè Sara cioè non avete una data d'anniversario raga è tristissimo proprio dormiamo stanotte insieme? andiamo a riposarci ma un pochettino ciao Lu guarda tutto sporco di suo guardalo sul braccio per favore ciao Lu mi vado a dormire con Alice e vai fate presto dai dai a parte gli scherzi qual è la vostra data d'anniversario? quale data? che è la data? che significa? dai il giorno che vi siete il giorno di che? non lo voglio perché sei tu regalo più bello ci credo guarda io ho sempre detto che i regali non li voglio ci crediamo non li voglio i regali tu fra un paio di me si ridicola ridicola che io li conosco queste donne ma se al sud si usa questo tipo di comportamento non è colpa mia basta l'amore basta l'amore che lo sappiamo già che tu fra un paio di mesi iniziamo e lo compri il brillante